Riccardo Giordano per il centro-sinistra. Noi abbiamo detto che vogliamo una provincia che serve, una provincia che serve perché è utile, perché interpreta il territorio, perché si mette a disposizione del territorio e serve perché si pone al servizio della gente dei problemi della gente, non una provincia che è distaccata e lontana, una provincia che è molto istituzione e pochissimo territorio, pochissimo problemi delle imprese, problemi dei giovani e degli anziani. Io non vorrei più una provincia che non ha i soldi per fare la manutenzione delle strade perché la spesa corrente è brutalmente condizionata dai costi legati al pagamento di 18 dirigenti, che sono una cosa che non sta né in cielo né in terra, sono più del doppio dei dirigenti che sono in altre province e lo ripeto non è colpa dei dirigenti, ma è colpa di chi questi dirigenti li ha fatti. Vorrei una provincia che non abbandonasse più l'entroterra, vorrei una provincia che finalmente si occupasse delle questioni legate all'ambiente e quindi, che non abbiamo parlato questa sera, ma sono questioni grosse come una casa. Il piano dei rifiuti ha avuto dal 2001, cioè da quella data famosa in cui è stata annullata una gara regolare per il quale la provincia è stata condannata dal Consiglio di Stato a pagare le spese legali, processuali. È stato un piano dei rifiuti che ha avuto oltre 50 proroghe e ci porta a tutt'oggi ad avere una situazione invariata, ovvero sia con delle discariche a cielo aperto che raccolgono il rifiuto indifferenziato. Vorrei una provincia che si occupasse dell'acqua e quindi che lavorasse assieme ai comuni che sono contrari alla privatizzazione dell'acqua, dichiarando l'acqua e la distribuzione dell'acqua un servizio non a rilevanza economica, perché l'acqua e soprattutto le reti devono rimanere pubbliche. Vorrei una provincia che si occupasse di energie alternative e di rilancio di tutte quelle economie che sono legate alla tutela dell'ambiente. Questa è la provincia moderna, questa è una provincia che noi vorremmo, una provincia che siamo in grado di garantire se il 28 e il 29 di marzo la gente ci affiderà la loro preferenza e la loro fiducia.